Grazie. Vi ringrazio moltissimo per l'invito, ho apprezzato questa riunione. Grazie a signor Pascher, perché mi concordo abbastanza con la tua comunicazione e sono molto felice di venire qui. Da un punto di vista, per quello che riguarda la comunicazione dell'architetto Toso, volevo interloquire perché credo che la tendenza sarà quella a un ulteriore aumento dei consumi. Per una cosa che mi sembra di dover sottolineare, la frantumazione continua della società, si va a stare in appartamenti sempre più monofamiliari. Se una volta ci stavano cinque persone, molto tempo fa, dentro un appartamento, ora quelle cinque persone vogliono tutti un appartamento per uno. Questo è uno dei motivi per cui, in una situazione demografica stagnante, continuiamo a vedere un aumento dei consumi energetici in edilizia. E credo che sia un fenomeno che continuerà, insomma, per la nostra società da questo segnale. Credo che il punto fondamentale per tutti noi che stiamo in questa stanza sia culturale. E cioè, deve essere chiaro che quello che si applica per l'efficientamento energetico del patrimonio di edilizio è un investimento, non è una spesa. E questo è una cosa che manca nella cultura politica in generale. Perché sembra che uno vada sempre a chiedere un piacere. E invece non è così. Il piacere ce lo facciamo reciprocamente. In questa sala, in queste riunioni, sono stati evocati numeri pesanti, 500 miliardi di importazione in Europa di combustibili fossili, di cui una bella fetta va ad alimentare il patrimonio di edilizio. Risparmiare lì dentro significa un investimento. E se noi non facciamo sistema, e questo è il punto fondamentale del ragionamento, che è una cosa che io ho visto, noi come Agenzia Fiorentina per l'Energia, noi siamo al servizio degli enti pubblici e lavoriamo sia sul pubblico che sul privato. Sul pubblico siamo riusciti a vincere diversi progetti europei e abbiamo potuto confrontarci con le migliori realtà, almeno credo, tra le migliori realtà del continente. E che cosa hanno fatto questi? Una cosa molto semplice, hanno fatto sistema. Quello che da noi, invece, è complicatissimo. Loro hanno fatto sistema. Una volta, e hanno fatto 1 più 1 più 1, che è una cosa che io adoro, noi facciamo 1 più 1 più 27, meno 14, fratto 23 alla ennesima potenza, e poi alla fine nessuno ci capisce più niente. E vado ad essere più chiaro su questo, perché è lì che ci stiamo fregando con le nostre mani. La prima tecnologia di cui dobbiamo approfittare è l'analisi energetica. Se uno non sa con quale edificio ha a che fare, pubblico o privato che sia, difficilmente azzecca gli interventi. Se non c'è una buona analisi energetica, difficilmente la banca potrà essere incentivata a darti i soldi. E soprattutto è l'utente finale, oggi, che non è convinto di fare l'efficientamento energetico. È il cliente privato. Io ho partecipato a non so quante assemblee condominali, dove alla fine vince sempre quello che dice, sì, va bene, dottor Gatteschi, però io voglio spendere 200 euro di meno a famiglia. E a me di mettere il cappotto e non mi va. Perché alla fine, poi, è questo dove uno si frega. Perché non c'è la convinzione, la consapevolezza che si sta parlando di un investimento. Allora noi, per esempio, e questo avrei voluto dire, non levo le lencini, glielo ho scritto su un messaggino di carta, e ho detto, scusa, avevi pazienza, ma sentiamoci su questa roba. Se la certificazione energetica viene fatta in maniera difforme sul territorio nazionale, se la clientela finale non capisce che è un'opportunità, cioè noi abbiamo tutti, non lo so, libretti di 20 pagine per il motorino, e per casa tua non sai che cosa è, quando è stata fatta, come funziona. No. Perché? La nostra legislazione, da questo punto di vista, ha aperto la strada a una specie di incubo, per cui molti cittadini vedono la certificazione energetica come un balsello, dice, vabbè, devo fare una compravendita, mi tocca chiamare un architetto, un ingegnere o un perito, chi l'ha detto, perché poi c'è qualcuno che non ha detto nulla, qualche regione ha fatto tutto a modo suo, per dire un momento, una falla del nostro sistema. Questa è una cosa che non costa nulla, nulla ai pubblici poteri. Quindi avere un quadro coerente comporta che tu devi far conoscere il patrimonio per quello che è a tutti, pubblici e privati. Chi ha fatto questo si è trovato bene, perché dopo tutti i comprovedimenti sono nati di conseguenza. Io so che oggetto ho e io so che investire lì sopra, mettendoci un cappotto termico, cambiando la caldaia, cambiando i vetri, mettendo un impianto di ventilazione forzata, io so che cosa mi renderà ambientalmente, ma visto e considerato che siamo dentro una crisi economica, che cosa mi renderà economicamente. Dopo quanto tempo quei soldi li ho ripresi. Io non mi sono andato a comprare un vestito, con tutto il rispetto per chi vende vestiti, io sono andato a investire sul mio patrimonio, il patrimonio della città di Firenze. Io conosco i costi degli enti pubblici, qui si parla di milioni e milioni di euro, una piscina costa 600 mila euro l'anno di consumi energetici, le nostre scuole costano centinaia di milioni. Possiamo permetterci di investire in maniera cosciente lì dentro? Io penso non possiamo, dobbiamo farlo. Questo è il punto. Perché poi l'altra cosa è che le tecnologie presenti, senza più niente di sconvolgente, cioè Marzio Cacciamani con cui abbiamo collaborato, nell'arco del privato noi facciamo questa certificazione Casa Clima, che è utile perché è un procedimento coerente, no, perché esaminiamo dal progetto al cantiere come va a finire, i risultati sono strabilianti per chi non li conosce. Perché avere qui accanto l'edificio Cacciamani, che noi si porta a vedere tutte le volte che si può, dove i condomini spendono 75 euro di spesa energetica, evidentemente è un bel passaporto, cioè non c'è bisogno più di tante cose per convincere le persone. Quindi diciamo, noi abbiamo la necessità di fare un passo avanti convincendo i decisori politici che si tratta di un investimento, che quindi tutti i provvedimenti devono essere presi in coerenza, quindi gli sgravi fiscali devono essere mantenuti, è già stato dimostrato prima che sono un buon affare anche per il governo, quindi la certificazione energetica deve essere omogenea sul territorio nazionale, quindi gli enti pubblici devono fare da volano, perché devono esaminare i loro edifici e cominciare lì a migliorare i loro bilanci facendo il calcolo del rientro dell'investimento e così motivando anche il privato a seguire questa strada.